a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sono rg quittor il canale gaming di uzz e oggi sono qui pronto per mostrare un nuovo video gameplay oggi siamo come vedete su minecraft avevo già provato a registrare questo video però mi hanno dato in crash l'ipad quindi non potevo più fare niente allora cioè ho dovuto ricominciare il video da capo stiamo con mister x e andre andre sto registrando che stavo dicendo mi sono già dimenticato ah sì sono con mister x che è un altro giocatore di minecraft naturalmente e stiamo creando un tempio raga ri dite ciao a youtube naturalmente perché avevo già fatto questo video ma è andato perso ok scusate un attimo allora di che cosa vi volevo parlare vi volevo parlare della settimana bianca naturalmente sta arrivando la settimana bianca e per vari motivi non possiamo fare i video perché Alex ha il computer fisso anche Alex ha il computer fisso del mac e io sono l'unico che può fare video però 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 per non non fare non distanziarmi troppo ecco dagli altri dagli altri membri del canale non li farò neanche io non so ancora non ne sono ancora sicuro però è molto probabile ecco e poi è entrato un altro membro nel canale un'altra persona nel canale ora non mi ricordo bene il nickname che si è scelto se questo è un tempio un po' un po' sembra dai diciamo ce l'ho un po' un po' assomiglia un tempio raga l'hanno detto ciao youtube no dite ciao a youtube me l'hanno detto porca miseria come vi ho detto cioè come avevo detto nell'altro video che voi non vedevate non vedete quindi vabbè avevo detto che non siamo ancora molto conosciuti su youtube abbiamo quasi 30 subscribers una roba del genere però niente ce la caviamo speriamo di andare avanti ecco allora diciamo Andre vuoi costruire ok pronto lo facciamo alto si basta così va eccolo no 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 quello non è eccolo and no magari andre ok ho fatto andre allora niente raga cerco di fare questo video il più corto possibile perché non ho tanto tempo per uploadarlo su internet stava a rompere quindi l'ho ammollato l'ho fatto venire dentro ragazzi naturalmente iscrivetevi ai canali iscrivetevi al canale di PakiPak che troverete nella descrizione e poi che vi posso dire e a General Tyro che fa gameplay in inglese anche se è italiano cioè l'italiano vabbè si è italiano quindi seguiteli e niente continuiamo ora metto un po' di musica così andiamo avanti veloce grazie a tutti ok ragazzi siamo arrivati a a questo che è un lotto discreto fine ora ora interni e pareti paretoi 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 ok facciamo in questo modo facciamo in questo modo ce la possiamo fare è un lotto di schivo però ce la possiamo fare dai ragazzi ci vediamo anche quando abbiamo finito questa parte è un po' di musica Grazie a tutti. Grazie a tutti.